Faremo la storia delle boy band questa sera. Bro, mi rendi Baby Brunch nervoso. Mi sa che sto per vomitare. Per venire. E per fartela addosso? Tu come lo sai? Un bel applauso a Felipe Rosso! Fate schifo! I miei squisiti addominali scolpiti e io ce ne andiamo. Non siamo in sync. Siamo passati da Boyz II Man e c'è solo One Direction ora per noi. Le Backstreet. Ciao. Ci vediamo. Branch! Cosa? Oh! Ehi! Ti senti bene? Sorridi e piangi allo stesso tempo? Ti si sta deformando la faccia. Il dolore è deformarla. Uh! Baby Brunch! Sono John Dory, il fratello di Branch. Come? Ai! Ex fratello. Colpo di Sena! Faffa Made in Coast. It's hard to say I'm sorry. Un fratello è un amico che non ti nascerà mai. È il più forte legame del mondo. Vorrei io un fratello con cui cantare. Guarda che look avevi. Il piumino, la collana di conchiglia, lo spocchi di jeans. Avevi le butte ossigenate. Ah! Guarda qui, ma che carino adoro! Era quell'epoca! Tragica. Branch, nostro fratello, è dentro una prigione di diamante. E c'è solo una cosa abbastanza potente da spaccare il diamante. La perfetta armonia familiare. Sicuri di far guidare un bambino? Mi sono procurato il mio foglio rosa. Chi è Adulti McMahon Face? La vera domanda è... Sei della narcotici? Kimono! Cerchiamo nostro fratello! Oh, ma guarda! Ciao! Mi chiamo Viva! È davvero fantastinario vedere altri tro... Davvero mi hai fatto una treccia? Prego, ti sta molto bene. La adoro! Tuo padre è il re Peppy? Eh, sì. Poppy, sono tua sorella! La cosa? Sono l'unico senza qualche fratello perduto! È l'occasione di riavere i tuoi fratelli, Branch. Metti bene meno pannolino. Ancora meno pannolino di così e resto nudo. So che credi che sia rischioso e forse lo è, ma è importante. La famiglia è importante. Non posso credere che sia tutto vero! Spacchiamo ancora! I giorni della band non sono sepolti. I giorni della bandiera serve a consechigede. Allora non va tenere. E trovi? Allora non rupo? E ti passwords! E non ho ch�� Richardson Ci premi. Questi sono di fuocouta delle cose e tutte le cose delle andate delle cose l'unico sinistro�. Questi. E allora lo chiamano tutto! Adoro? Prettate non created. Grazie a tutti.